Bene, ora voltiamo pagina, parliamo di innovazione in agricoltura. Beh, lo facciamo con il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, che ha appena aperto un centro specializzato nel bellunese. Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno brinda il nuovo centro espositivo. L'Organizzazione degli Agricoltori Interprovinciali aggiunge un nuovo tassello e consolida la sua presenza nella provincia bellunese, aprendo un nuovo centro espositivo di macchine e attrezzature agricole in località Salce. Con questa apertura diciamo che rinnova in una tradizione la propria presenza nel territorio della provincia di Belluno. Ormai abbiamo compiuto 50 anni dall'aggregazione della realtà trevigiana e bellunese e ci pareva giusto dare anche una presenza più forte nell'ambito della meccanizzazione e dell'assistenza post vendita in questo settore. Una provincia che ha delle potenzialità e ha bisogno di aprirsi e di crescere dal punto di vista delle opportunità. Ubicato in via del Boscon, il nuovo centro espositivo testimonia la volontà di affermarsi del Consorzio Agrario come punto di riferimento per il mondo agricolo bellunese che da oggi conta ben 5 punti vendita. Pieve di Cadore, Mel, Santa Giustina, Feltre e appunto Belluno. I servizi legati a quello che è un'agricoltura che ha bisogno di risposte, di velocità ma soprattutto anche di professionalità ed è questo il senso di oggi, la professionalità su un territorio che sta traguardando nuove agricolture ma in modo particolare ha bisogno di avere certezze rispetto a quelle storiche. Al servizio di produttori agricoli grandi marchi, servizi professionali e personale altamente specializzato per garantire assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria. Abbiamo battezzato e oggi la presentiamo ufficialmente una collaborazione importante con il centro ricambi appunto che in questa realtà è una realtà conosciuta. L'officina è un'officina autorizzata a New Holland per l'assistenza e le garanzie, l'assistenza e la manutenzione e riparazione di tutti i mezzi agricoli e forestali e dopo anche diventiamo ricambisti specializzati nel settore New Holland e per tutta quanta la ricambistica dei trattori. Una strategia capillare è quella messa in pratica dal Consorzio Agrario che conta oltre 40 filiali tra le province di Treviso e Belluno. Negozi dove oltre all'alta specializzazione è possibile trovare anche risposte alle famiglie. Qui oggi parliamo di macchine di meccanizzazione ma il Consorzio è presente a 360 gradi e fornire tutti i mezzi tecnici per l'agricoltura ma anche per la lobbistica, per i cittadini.